conosco e collaboro ormai da quasi vent'anni con gli amici di arpa industriale ho avuto modo di utilizzare i loro prodotti in molteplici situazioni molto molto diverse tra loro fino alla sperimentazione acustica in questo caso ho due esempi peculiari la chitarra navel il cui body è realizzato interamente in fenix il che determina oltre una tattilità speciale una sonorità specifica determinata proprio dal fenix il fenix evidentemente non è nato per gli strumenti musicali ma ci si è adattato molto molto bene un esempio più recente invece è il pianoforte nemo che ho progettato per zanta pianoforti in cui la parte frontale il fronte del pianoforte che è una delle zone più importanti nella relazione fisica del musicista con lo strumento è interamente realizzata in fenix compie una curva il cui punto focale è sul musicista per cui il suono viene proiettato verso il musicista questa parete appunto è tutta in fenix tutti i tasti sono a loro volta realizzati in fenix sia quelli bianchi che quelli neri cosa che determina evidentemente una tattilità speciale che è stata molto gradita da tutti i pianisti